buongiorno a tutti ragazzi sono gilbe e sono uno studente universitario con la passione appunto per l'economia infatti studio quello lavoro anche questo settore qua perché ho una società che offre consulenza e contabilità all'azienda e nel tempo libero tra le altre passioni ho anche la passione per gli investimenti oltre che ai videogiochi tante altre cose ma oggi per la prima volta vi voglio far vedere il mio portafoglio azionario perché per chi non lo sapesse io investo circa il 78 per cento dei soldi che possiedo percentualmente sono circa 68 per cento in azionario e 10 per cento in peer to peer lending io utilizzo bond ora se avete piacere di guardarvi qualche recensione di bond ora vi lascio il video in descrizione vi lascio anche un link affiliato che vi permette di iniziare subito con il video giusto infatti avrete un bonus di 5 euro che riceverò anche io oggi rega io voglio farvi voglio farvi un po capire quella che è la mia concezione degli investimenti per chi non lo sapesse ho cercato di costruire un portafoglio sia per il futuro ma sia anche che mi permette di avere una rendita passiva tramite i dividendi per chi non sapesse cosa siano appunto i dividendi sono una piccola parte di utile di esercizio che una società decide tramite il suo management di distribuire agli azionisti io appunto sono azionista di circa 45 società ho comprato le azioni tramite un broker che si chiama trading 212 che è un broker inglese che permette anche di comprare tra l'altro le azioni frazionate cioè ad esempio se io voglio comprare un azione di amazon in teoria mi costa circa 2.500 dollari essendo che io non voglio investire 2.500 dollari su amazon in una botta sola perché non mi fido non ho così tanti soldi da permettermelo ci sono dei broker soprattutto quelli nuovi che permette di comprare anche porzioni di azioni essendo che l'azione c'è una porzione della società ti permette di comprare una porzione di una porzione ad esempio io ho lo 0,048 di un azione amazon ci tengo a precisare poi che io tengo tutto su dei fogli excel che vi faccio vedere adesso perché voglio tenere traccia di quello che è la divisione sia percentuale sia tramite importi sia geografica e sia settoriale del mio investimento azionario ci tengo a precisare poi molto fermamente che io non voglio che nessuna delle società occupi più del 10% del mio portafoglio questo perché? perché essendo che sono agli inizi di questo mondo non voglio che una perdita mettiamo del 20% di un'azione costituisca una perdita una fetta grossa del mio portafoglio ad esempio se io detengo un'azione che occupa il 10% del mio portafoglio e mi perde il 20% alla fine avrò perso solo tra virgolette il 2% del mio portafoglio non so se ci siamo capiti questa percentuale qua cercherò sempre di abbassarla voglio che il massimo poi sia il tetto massimo poi sia del 5% infatti voglio che una società se perde il 20% influisca solo dell'1% sul mio portafoglio di conseguenza anche sia in perdita sia inutile cioè se quell'azienda lì cresce del 20% io influenzerò solo l'1% del mio portafoglio perché crescerà del 20% del 5% del mio portafoglio quindi l'1% totale del portafoglio essendo che ho un portafoglio molto grande di circa 7.600 euro essendo che io ne ho investiti circa 7.100 adesso guardiamo qua dovrei averne investiti 7.100 come potete vedere qua io ho depositato 7.150 euro infatti per ora ho un profitto di circa praticamente 450 euro qua vi dice il risultato attuale 390 euro perché semplicemente è quanto il mio portafoglio di azioni è cresciuto senza contare però le plus valenze cioè la vendita in positivo di determinati titoli nemmeno le minus valenze cioè la vendita in negativo dei propri titoli e i dividendi soprattutto i dividendi perché per chi non lo sapesse ho creato un portafoglio di dividendi io ottengo delle rendite che possiamo trovare qua però ho ricevuto i dividendi di Microsoft di Applied Materials di Ion che sarebbe tra virgolette tipo l'Enel tedesca dividendi di Intel di Westrock di Credit Suisse cioè qua non so perché mi ha diviso il dividendo in due però non l'ho capito comunque fa lo stesso l'obiettivo di questo video è magari farvi conoscere qualche azione che io ho studiato e che magari può interessare anche a voi ad esempio Heavy è una farmaceutica che mi è piaciuta molto sto cercando di adesso sono entrato solo con il ho preso solo il 50% di un'azione però ho intenzione di aumentare la mia posizione Activision Blizzard che semplicemente crea videogiochi ad esempio Call of Duty Activision Blizzard ad esempio Call of Duty tutti i Call of Duty sono di Activision Blizzard Alibaba che sarebbe tra molte 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 virgolette l'Amazon cinese detta molto molto semplicemente anche se il business plan è molto diverso poi sto cercando di prendere posizioni sia su Google ovvero Alphabet sia su Amazon sia Google sia Amazon non sto facendo un piano di accumulo cioè ogni lunedì io compro una determinata quota che mi prefisso io perché penso che nel lungo termine possono darmi delle grandissime soddisfazioni le reputo sì care ora ma penso che in futuro possono valere tanto e dico tanto di più non vedo nessun motivo per il quale queste due società possano scendere di valore hanno il mondo in mano sia Amazon sia Google poi ho American Express che è una financial Apple che tutti conosciamo Applied Materials che tra molte virgolette sarebbe tipo un Intel cioè crea componenti di computer e componenti tecnologici in generale Bank of America che è una banca Carnival che detiene tantissimi marchi di crociere tra cui anche Costa Crociere ho Caterpillar che tutti conosce Cisco Systems che per chi non la conoscesse è diciamo l'azienda che mi sta permettendo di fare tutti gli esami all'università online tramite la piattaforma WebEx che tra l'altro ho installato per dare gli esami dell'università sto prendendo posizione infatti per ora ho solo un'azione e mezza ma voglio aumentarlo poi ho Coca Cola che tutti conoscete Delta Airlines che tra l'altro sia Delta sia Carnival come vedete qua e come vedete qua li ho presi a prezzi bassissimi infatti tra l'altro ci sto guadagnando circa su Delta il 30% su Carnival il 60% perché l'ho preso non dico i bottom ma quasi ho una piccolissima porzione del mio portafoglio su queste tre società qua perché sono tre rischi che mi sono voluto prendere Nio Carnival e Delta dove sto guadagnando non un fracco di soldi perché hanno poche posizioni ma ci sto guadagnando qualcosina ci sto guadagnando circa 180 euro tipo 200 euro circa però ci sto guadagnando in percentuale molto ma le voglio tenere per almeno 1-2 anni poi vediamo sono dei piccoli rischi che occupano veramente poco del mio portafoglio poi abbiamo Diagio che non so se si pronuncia così ma è semplicemente una multinazionale britannica che opera nel settore delle bevande alcoliche che per me è un Nevergreen e quindi ho voluto prendere e lascio un bel dividendo EON come vi ho detto sarebbe l'Enel italiana tipo Average è tipo se non ricordo male dovrebbe essere una compagnia canadese che trasporta energia sia petrolio sia energia elettrica sia gas naturale l'ho presa tipo qualche settimana fa forse un mesetto fa poi ho Facebook che per me è oro colato poi ho Gazprom gas russa GlaxoSmithKline è una compagnia farmaceutica di Home Depot l'ho presa perché perché secondo me può fare un bellissimo exploit dopo appunto il virus poi ho Huntington Bankshires dove sto guadagnando anche già il 21% che è una banca Intel come vi ho già detto produce processori per il computer JP Morgan è una banca Louis Vuitton è una multinazionale francese che detiene tantissimi tantissimi marchi del lusso e penso che in cui qua stiamo parlando di un Evergreen poi ho Mastercard che tutti conoscete Medtronic che è una healthcare Microsoft che tutti conoscete poi ho Morgan Stanley che è anch'essa una banca NIO che appunto è il rischio che mi sono preso che è una compagnia cinese che produce auto elettriche sarebbe tipo la Tesla ordinata su Wish quindi tarocca poi ho Nucor che opera nel settore della siderurgia o Nvidia che produce schede grafiche per i computer ed è secondo me una compagnia top molto cara ma compagnia top poi ho People's Unite Bank che è una banca Pepsi Cola che ha il controllo di quello che pensate voi non detiene solo il marchio Pepsi ma tantissimi marchi anche alimentari ed è anche per quello che secondo me a lungo termine può anche rendere più di Coca Cola Pfizer che è una farmaceutica Realty Income che è un rate quindi nel settore immobiliare Royal Dutch Shell che al contrario di quello che pensano tutti non è solo nel settore petrolifero ma anche in quello energetico ed è per quello che secondo me a questi prezzi c'è tantissima roba poi ho Sony perché sono innamorato appunto della Sony che è una compagnia giapponese ho Stag Industrial che opera anch'essa nel settore immobiliare US Bank Corp che è una banca United Bank Shares che è una banca americana tutte americane sono le banche quindi appena esce il 2008.2 io vado ben ben giù poi ho Verizon che sarebbe tipo tra molte virgolette la telecom americana ho Visa che tutti conoscete Disney che tutti conoscete Waste Management che è una compagnia di riciclo americana e Westrock che è una compagnia di packaging americana produce cartone e secondo me questa ed è anche la compagnia che detiene la maggiore percentuale nel mio portafoglio è stato anche il mio primo investimento in futuro mi regalerà veramente tantissime soddisfazioni ora però voglio farvi vedere come è suddiviso in percentuale il mio portafoglio come vedete qua ho fatto tutto questo grafico qua che mi permette di vedere tipo ad esempio che Westrock occupa l'8,8% del mio portafoglio ma quello che voglio fare non è diminuire la posizione di Westrock è semplicemente aumentare le altre fino a quando tutte le azioni che possiedo hanno al massimo il 5% del mio portafoglio Westrock ad esempio fino a qualche mese fa occupava il 15% del mio portafoglio poi Westrock non l'ho più comprato ho aumentato le altre partecipazioni e quindi pian pin si uniforma tutto il portafoglio per quanto riguarda la suddivisione per quanto riguarda i settori Nel mio portafoglio abbiamo un 24% financial, quindi ovvero tutte le banche, le varie Visa, Mastercard e tutto il resto, un 24% tech che comprende le varie Alphabet, Apple, Nvidia, Intel, Applied Materials e molte altre. Poi ho Services, ovvero ad esempio Delta Lines, Carnival e tante altre, poi ho Capital Goods che se non ricordo male dovrebbero essere le varie Caterpillar e vediamo un attimo, Capital Goods, solo Caterpillar, poi abbiamo Consumer Non Cyclical e Consumer Cyclical che per chi non lo sapesse. La principale differenza è che le Cyclical si muovono in modo direttamente proporzionale al ciclo economico, quindi tendenzialmente sono quelle città che aumentano di valore per quanto riguarda i ricavi utili in momenti di espansione economica e diminuiscono in momenti di depressione economica, al contrario le non Cyclical, cioè che non corrispondono ai cicli economici. Il Healthcare che comprendono le varie aziende farmaceutiche, detengono il 3,8% del mio portafoglio ma questa partecipazione qua voglio aumentarla, infatti sto aumentando le mie posizioni in Pfizer, in Glaxo e tra l'altro voglio comprare anche Johnson & Johnson appena crolla un pochettino. Poi le Basic Materials che tra l'altro penso comprende solo Westrock, adesso voglio controllare ma Basic Materials, vediamo un po'. Mi comprende, mi comprende, Westrock e Nucor sì, che opera anche se sono nel settore siderurgico, quindi ci può stare. Transport, ah no tra l'altro mi sono sbagliato, probabilmente Services, ah no scusate, Transport comprende sia Carnival sia Delta Lines, Services invece comprende probabilmente le varie Amazon. Allora vediamo un po' Services, Services comprende, vabbè Alibaba, Amazon, ah no Carnival è considerata un servizio, sì effettivamente le crociere ci stanno, sono più che tutto un trasporto. Di Home Depot, Walt Disney, West Management, ah Visa viene considerata anche, viene anche considerata servizio dalla mia applicazione di trading. Ho Stag Industrial, cioè i rate immobiliari e Utilities, ovvero le varie E.ON, Shell e Gazprom. Per quanto riguarda invece la suddivisione dei paesi, invece diciamo che non è molto diversificato e infatti abbiamo un 89% USA, 1% Irlanda, 0,3% Giappone perché semplicemente Sony, Canada è il 55% per il 0,8% che comprende Edbridge, penso se non ricordo male, Cina che comprende Alibaba e NIO, ovvero un 2%, Germania, Deutschland comprende l'1,3% ovvero E.ON. Poi abbiamo Francia, l'1,3% che sarebbe Louis Vuitton. Olanda sarebbe Shell con 1,2% anche se ha sede anche in UK, Russia che sarebbe Gazprom e Unite Kingdom che comprende GlaxoSmith e Diageo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere ragazzi è quello che è stato l'andamento del mio portafoglio all'interno dei vari giorni, infatti se mi sono creato il foglio Excel. Andamento portafoglio azionario come potete vedere qua, mi sono creato sia il grafico per quanto riguarda l'andamento degli importi, ovvero ad esempio io il 29 aprile ero in profitto di 172,93€ che però in percentuale era molto più alto ad esempio in quel periodo lì, ad esempio in quel periodo lì 172€ ero in positivo del 9,35%. Poi diciamo che è crollato tutto intorno, poi diciamo che è ricrollato tutto un po' verso fine aprile e ha dato una bella botta il 13 maggio per chi se lo ricorda, in cui è stato in negativo di 257€ che però corrispondeva solo più al 5% del mio portafoglio. Perché qua ho creato entrambi i grafici che come vedete sono molto simili, però ad esempio in questo grafico qua poi sono arrivato a un profitto di 1084€ che però corrispondeva solo più 3 virgolette al 15%, sono andato in un profitto di 15% Poi negli ultimi 2-3 giorni è crollato tutto, infatti in praticamente 3 giorni ho perso il 12% del mio portafoglio, essendo che è un portafoglio azionario molto volatile e ora sono in profitto del 6,21%, ovvero di circa 450€ come vi dicevo prima. Regà io spero che questo video vi sia stato utile, spero vi sia piaciuto e niente regà penso di fare un aggiornamento, adesso vedrò se farlo magari ogni 2 settimane o magari mensile, in cui vi faccio vedere quello che è stato l'andamento del mio portafoglio appunto dell'ultimo periodo. Niente regà io spero che sia stato utile e vi invito a lasciare un bel like, un commentino e niente regà ci sentiamo al prossimo video. Ciao!